Qua puoi innestare uno, no? Più qua. Qua c'è proprio questo. Ma l'altro innestano qua? No, ma io non ce l'ho più. Ho un rifanato. Eh, non li mettono un altro qua. No, uno solo ne mettiamo. Ah, metti a celle. No, no, metti. No, anche fuori. Eh, no, sai perché? Lo scorso è nato. Dici. Tu lo stavo facendo? Tagliamo qui e lo fai qui. E questo qua? Questo qua tu lo tagli qui. Quest'anno da mangi i figli. Ah. Perché? No, quello non mi piace. Perché? Sono sic, sono... Non sono sucrose. Come ti hai già spiegato? Poi un'altra cosa. Tu con cibo ne metti? Sì, quello organico, quello grigio. No, tu devi mettere quello azzurro. Quello azzurro l'anno scorso hai bruciato tutti i peperoncini. No, ma non ne devi mettere sai. Quello ne devi mettere poco, quello azzurro. Quello c'è azurro, fosforo, zinco, c'è tutto lì dentro. Mi capisci? Tu hai messo troppo vicino i peperoncini. Perché dove erano i peperoncini? Bastava due o tre granelle e bastava. Ah sì? Eh. Invece non ti ha tramanciato, bruciate tutto. No, certamente le hai bruciate che ci hai messo troppa vegetazione, troppa alimentazione. Troppa alimentazione. Eh, che cazzo è salcino. Allora facciamo qua. Eh. Perché lo ha tagliato qua? Eh, perché qua, vedi qua, è bello limpido. Vedi? E che significa? Eh, perché l'innesso non lo puoi fare qua. Non lo puoi fare qua, vedi? Perché già lo ha lasciato là. Deve essere bello limpido così la vegetazione è perfetta. Eh. C hubiera. e non mi rimangere dopo ti fai qua quelle che ti servete ma lo sa mi intendi tu uno lassalo quello che mi diceva quello grosso o non lassalo dai questi nemmeno più grandi si spaccano questo selvaggio e si spaccano sotto e sono secchi no sono selvatici questi sono selvatici non servono a niente non servono come altri ma dopo l'occhio si sviluppa un po' un muro o l'annesto a rossi è meglio muocare l'altra parte ma Marzia lo devi chiudere come è andato tu l'hai chiesto? quando è recentemente sempre tre? no ti faccio te con quest'anno ci faccio mangiare pure i figli ma poi l'ho colata ieri ancora nell'albero Arusa eh? l'ho potato no? no 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 quando si porta quando è gennaio? quando si porta quando è gennaio? mi dico un mese però un mese un mese ti piante i figli a dicembre quando non c'è non ci sono foglie né niente quando non è in ventilazione quindi ora lo puoi toccare? no ora non lo puoi toccare e ora lo puoi toccare ma perché si mette il mese sopra? invece quando c'è periodo non c'è bisogno di mese non c'è bisogno di mese ma tu dove lo puoi toccare? ah è in negozio di agricoltura però attenzione che ti imbrogli no? ci piegacce il rosso come si chiama? questo è chiamato vulcanizzato serve solo per l'innesto se non ti devono essere isolante fai attenzione questa cosa costa intorno a 7-8 euro se te la donano 1,50 euro significa che vanno a quella eh che non è buono questa cosa lo utilizzano pure lo utilizzano sotto i fili sottoterra ah si per? per l'acqua, per l'umidità, per tutto la corrente perché poi si vulcanizzano, capito? quando vai via ora? vado vado via venerdì venerdì che viene ora? no no questo qua io mercoledì salvo che viene tu del lato dove sei? io di Napoli quante giorni no? io sono ospedaliero ok guarda guarda tocco qua l'aria non passa da nessuna parte hai visto? questo poi col calore questa qua si dilata e si attacca si attacca e viene il corpo unico ma già adesso è tutto con una stesolata no no non va bene però cosa succede? questo col tempo si toglie solo il naso isolante se non lo toglie lo taglia o no? sempre eh perché maggiormente conviene utilizzare questo ora sai che il governo che sta facendo? no ha rotto l'anima che il suo governo perché le piante tropicali dice che deve avere un registro ora non li puoi portare più ah si? eh le schifezze che viene dall'Europa va bene però le piante tropicali tu li puoi portare dall'Italia puoi portare qualsiasi cosa ma se porta qua ci devi dare l'autorizzazione allora ma quanti sono cretini qui è proprio l'Italia è proprio Vedi che si è conclusa Rosa? Questa è conclusa. Manca la busta? Un po' di racchia di botolata. Scusa, a me ne ce ne abbotta questa cosa e farlo cadere. Mi piace che la stagetta... Apri. A me ne ce ne abbotta la sotto. Ok, perfetto. A posto che sa, mi hai dire alcuna altra cosa? No, nè. A posto? Nè. Una bella mattinata abbiamo passato eh? Altro che con i paesani qui di guardia... Ah, e ci facciamo vedere la produzione. Su una pianta di fighe abbiamo fatto quattro tipi di nè e di fighe diverse. Eh? Qui ci sono fighe troiane, fighe boff, tipo... Sono quattro tipi di fighe. Ok? Ok. 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 Ok.